theme salva a tutti ragazzi siamo tornati su resident evil 7 questa volta è nel dlc nessun eroe not a hero quindi non perdere tempo di iniziare subito la partita facciamo normale soldati Tutti pronti? Iniziamo. Ehi, tagliamo il corzo. Mettiamoci al lavoro, su. Questo... dovrebbe essere Lucas. Ah, questa è la parte finale di Resident Evil 7. Chris, l'abbiamo perso. Negativo. Ethan Winters è al sicuro. Sta bene, nonostante tutto. E Lucas Baker? È l'unico che può condurci alla Connections. È il prossimo sulla lista. Infatti, il prossimo... Dove siamo qui? Umbrella. Se non mi sbaglio, lui... Bene, sono nella miniera. Il segnale è stabile. Ti sento forte e chiaro, Chris. Sembra che Lucas usi la miniera come nascondiglio. Ma la prima unità ha perso i contatti prima di poterci dire altro. Quanti ne abbiamo persi? Tre dei migliori. L'ultimo segnale veniva da un laboratorio o più avanti. Dovresti andare a controllare. Roger. Se non mi sbaglio, lui faceva parte... Cioè, si poteva giocare su Resident Evil 5. Con Chris Redfield. Non mi ricordo, ma ci ho giocato tempo fa. Molto tempo fa. Allora, vediamo che possiamo fare. Qua, rispetto a Ethan, abbiamo pure un arsenale. Guarda che c'è qua. Che nemmeno, mi tagliate gli fissili al pompo. Ah. Mi ostica di vecchi mostri, eh. Un pugno. Un pugno. Come sferiamo un pugno? Come sferiamo un pugno? Come sferiamo? Come sferiamo un pugno? Un'idea su cosa Lucas combini qui sotto. Stiamo ancora analizzando i dati, ma sembra che conduca esperimenti con un mutamicete di tipo I. Spero che quei soldati non siano stati usati come cavie. Questo pedente è scappato dalla casa dei bagger. E si è andato a nascondere in questa grotta. Allora. Vediamo dove possiamo andare. Allora, qua non c'è niente. Torniamo. Indietro. Sì, tanto che dobbiamo andare di qui. Questa sarebbe la vecchia miniera dove, diciamo, nel gioco principale. Eravamo proprio qui. E infatti, ora sto ricordando bene. Siamo tornati praticamente... Infatti, l'assessore miniera. Siamo stati superstiti. Ti porto fuori da qui. Lasciami. È troppo tardi. Ora ce ne andiamo tutti. Ora ce ne andiamo tutti. Non se ne andrà nessuno. Io non lo farai se fossi te. Puoi provare a toglierlo, ma ti consiglio. Di non farlo. Il mio dito potrebbe si volare. Fermo! Facciamo così, Chris. Tu smetti di seguirmi e io non ti farò saltare quella testolina. Oh, e lo stesso vale anche per i tuoi amichetti. Addios. Muchachos. Abbiamo anche questo dispositivo che ci può saltare la testa. Oh, sì. Il tuo ossigeno è al 50%. Ma che dobbiamo fare? Sembra che tu non sia stato contaminato. Torna indietro e fatti disattivare quella bomba. Non c'è tempo. Faremo il gioco di quel bastardo. Ricevuto. Ma fai attenzione. Abbiamo l'obiettivo dell'ombrella. Per molti questa sarà la prima missione con noi. Vediamo che si è ben chiaro tutti con l'obiettivo dell'ombrella. Nonostante che una parte dell'attuale staff provenga dall'ormai estremamente noto con l'osso farmaceutico ombrella. Abbiamo deciso di organizzarsi come CMP, compagnia militare privata, con lo scopo di rimediare l'attualità di passato con il nome dell'azienda. Il nostro fine, ultimo, non è solo di fermare chiunque produca o venga da armi biologiche, biochimiche, ma anche coloro che supportano tutte le organizzazioni. Il fardolo che ne tutti abbiamo portato le spalle è pesante. Mantendo il nome dell'ombrella abbiamo voluto mostrare al mondo di aver preso la responsabilità della tua città. Non è se vogliamo. Ok. E qui operazione la paura in agguato. E' star. Lugbega, sempre più attivo. Lugbega, sempre più attivo, luogo... Ma sei luisiano, residenza bega. Minacce, micro morfi. Varianti alfa e simili. Trappola anti-uomo. Vabbè, un po' di tutto e di più. Nota, cosa mi fa... C'è un momento. Possibile, arrivano le spiega, chiamate la connection. Lugbega, ancora la defiglia. Vagare in possesso di informazioni vitali. Ok, va bene. Cosa che diciamo sappiamo. Ok. Andiamo avanti, se no ci contaminiamo. Moriamo male. Mia, che cos'è? Superman. Il tuo ossigeno è al 50%. Questa pista è un super, no? Chris, abbiamo finito di analizzare i dati che abbiamo ottenuto. Come credevamo? Quel bastardo mandava rapporti sulle condizioni di EV alla Connections. Trovalo e portalo qui. Non deve accadere di nuovo. Sicura che non vogliate reclutarlo? Chris, ne abbiamo già parlato. Avete convinto l'ABSA? Altrimenti io non sarei qui. Ma sarà duro abituarsi a lavorare per l'Umbrella. So che deve essere difficile. E a dire il vero, molti dei membri sono con noi sin da prima che fossimo incorporati come GMP. Quel che ne è rimasto è solo il nome. Concentriamoci sulla missione. Ora continueremo questa conversazione quando torni. Ok? Sì, va bene. Comunque lo stile di gioco è completamente diverso. Che qua abbiamo un vero e proprio arsenale. Dovrebbe essere più semplice giocare con questo DLC. Probabilmente ci saranno anche mostri molto ma molto più forti ovviamente. Allora, vediamo che abbiamo qua. Abbiamo sempre la solita cassa. Una staccata vecchia cassa. Le monetine. Mamma mia. Per l'attacco. Ne prendiamo una. Proprio perché mi stiamo proprio sul cavolo. Un oggetto da utilizzare non l'abbiamo. Che cos'è sta cosa? Abbiamo qua. Qua non si fa niente. Qua c'è aria pulita. Vediamo qui. No, qua si apre. Vediamo che c'è qua sopra. Che l'avevo visto proprio fa. Granata. Ah. Malta di gabbiette. Mamma mia. Insopportabile. Ok, proseguiamo dai. Proseguiamo. Proviamo qui. Proviamo qui. Dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere. Tranquillo che fa. Tranquillo che fa? Ecco. Qua c'è un bel po' Qua c'è un bel po' Ok, eravamo già, non avevamo sfacciato Ah, pure questi ci sono, ok A posto Ok, se ci fossero tutti questi mostri con Ethan, quello proprio Potevamo scappare Altri Ok Chi è? Vediamo la c'è qui Niente da fare Allora, intanto ci mettiamo Questo ingoraggio qua Che è successo? Chiave Manovella Qua ci sono granate un'aurola Che servono? Eh, le stordisce Che è successo? Mamma mia Questa è la bomba Evidemment Oh, che buona fai Eh, non c'è più che ritirata e ritiriamoci aspetta ma la chiave non l'ho presa la chiave non l'ho presa da dove sta andando mi sta proprio dimenticando della chiave cella qui dove siamo possiamo aprire la chiave della cella infatti solo una ce n'era cosa? oh merda la mia maschera prendi il filtro presto ma morirai no viva mi sono morto come vuoi ha ragione Chris ma è lì Lucas no mi dispiace Lucas l'ho presa fitta l'altra potenzia diciamo che questo qui rispetto alla campagna è molto più violento e ora possiamo uscire e devi rimanere lì dove è ok le galline che abbiamo qua non vedo l'ora di avere quel bastardo tra le mani ricorda che ci serve vivo Chris certo certo vivo vivo morte sembra non c'era niente questa qua non serve a niente è solo un filtro non è un dispositivo questo dispositivo qua vediamo qui qua l'abbiamo visto che c'era questa salacina che è qua ma si vuole da qui di me non c'era dove ce la fa qua mi sa tanto che ci possiamo andare qui serve un oggetto allora il filtro non abbiamo questa è chiusa facciamo qualche trappola addirittura pure la pastimona ma che cavolo tutti immuni sono allucinanti allucinanti non c'è niente penso che era una bomba eh se ne è andata devo un po' non c'è niente non c'è niente una stranurale una stranurale antica e sempre qua queste cose che hanno messo questi immuni cioè allucinanti se la dovevano inventare qualcosa qualcosa se la dovevano inventare se la dovevano inventare qualcosa con quei proiettili eliminerai i nuovi micomorpi bianchi bene proiettili speciali per l'occasione ok ok questo dispositivo di bisogno di ottenere installato installazione completata ok proiettili proiettili questi qui sono ma qua non c'è niente no? no c'è qualcosa c'è sempre qualcosa no c'è no c'è no c'è no c'è no c'è caduto vabbè pazienza chissà cosa c'era dentro non penso a roba cosa importante dopo più che c'è scensore scensore non c'è corrente perfetto perfetto che si fa ora? che si fa ora? no 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 si abbiamo provato no? che si sente? che 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 non è mutante che 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 assurdo assurdo Qu'è questo? Qu'è questo? Uh, un colpo basta, ci ho sfregato, ma ne ecco eh, la torretta. C'è una volta che ho sbagliato. Ok. Non si fa niente. Non si fa niente. Poi non con questo. Vai a cavolo. Non si fa niente. Non si fa niente. Non si fa niente. Non si fa niente. C'è un colpo. È un colpo. È un colpo. Colo la torretta, comodo nigga. Colo la torretta è quanto di noi? Due in uno. maicosa 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 permissory Proviamoci... C'è un'altra qua o... Quella quella di prima? Quella è un'altra, no? Eh, è stata quella di prima... No! C'è un'altra qua? C'è un'altra qua? Eh, non è... Fanculo! No dai! Adesso l'abbiamo fatta... Perfetto... Iniezione! Iniezione! Un'altra! Basta! Basta! Senza vita! Senza niente! Sempre così ci può finire! C'è un'altra qua! 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 E' normale che non c'erano bloccato... è stato un sacco guarda guarda vieta guarda no no ciao Niente, niente, non c'è niente, qui qua, qua che abbiamo, siamo tornati, punto di portanza. Iniziamo le pistole, ah ma qui hai bisogno di notturno, ah, qui stavo, non c'è niente, siamo tornati a qui, ok, guarda lì che si guarda, guarda si, si guarda. non c'è un ok ok facciamo attenzione qua ok non si vedono non c'è nient'altro da eh qualcosa ci doveva per farci abbraccare che c'è? che c'è? che c'è? che c'è? tutto dall'altro se lo stiamo stavendo a dire un calcio ma vaffanculo palloncini che scoppiano così? questo è pesante eh questo è pesante non ce la fa con un calcio ah aspetta un secondo lo distruggere qui no? lo distruggere qui lo distruggere qui lo distruggere qui ok no stavolta no eh si invece non ci ho perso ma te fissa ok vado andiamo avanti che abbiamo? dobbiamo salire? no non c'è niente no dobbiamo distruggere qui dobbiamo distruggere qui dobbiamo distruggere qui no non c'è questo è uno alziamo all'altro non ok non è è non 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 è Grazie a tutti